Serata al Museo Egizio, a Creazzo, l'auditorium delle scuole medie si trasforma in un grande palcoscenico storico e archeologico. Protagonista Cristian Greco, Vicentino d'eccellenza, che dopo un percorso da appassionato studioso che lo ha portato in giro per il mondo, è tornato in Italia come direttore del Museo Egizio di Torino. Ma stasera torna in Veneto a Creazzo per parlare della biografia degli oggetti. Stiamo vivendo un momento di trasformazione simile a quello del V secolo a.C., quando si passò dalla tradizione orale a quella scritta. Adesso stiamo passando in un'era digitale dove si parla molto di digitalizzazione, modellazione 3D, stampa 3D. Ebbene, allora in questo i musei che futuro possono avere? Potremmo un giorno dire ma chiudiamo i musei, mettiamo tutto in un deposito e facciamo la modellazione 3D di tutto. E allora io cercherò di far spiegare invece come la biografia degli oggetti possa emergere solo dall'originale. Non perché l'originale abbia una sacralità particolare, ma perché solo quell'originale mi può raccontare quella storia. Solo quell'originale mi permette di fare l'archeologia del residuo e di capire quale fosse l'ultimo liquido contenuto all'interno. Solo quell'originale mi permette a volte di vedere l'impronta digitale dell'artista che l'ha fatto. Solo quella originale mi racconta la storia con lo studio degli isotopi, dell'argilla, di dove essa è stata presa perché in un posto anziché in un altro. Quindi ha molte storie da raccontare e noi archeologici dobbiamo impegnare sempre di più per renderle visibili e per narrarle al pubblico. Invito tutti a partecipare questa sera presso l'auditorium delle scuole medie Manzoni a Creazzo, con invito gratuito per questa serata che ritengo sia veramente un'occasione importantissima con un personaggio quale il direttore del Museo Egizio che con tanta passione e la sua smisurata cultura ci parlerà della civiltà degli Egizi che penso che è un argomento molto affascinante per cui vi aspettiamo numerosi. Grazie.